ciao ragazzi benvenuti o bentornati sul canale allora oggi sono qui per parlarvi e anche per farvi vedere quello che mi è stato regalato a natale allora ci tengo a precisare che i regali sono stati tutti apprezzatissimi e ve li farò vedere in ordine casuale allora il primo un duo diciamo di una mia amica e il rossetto e la matita il rossetto è diva che questo rosso borgogna molto 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 bello e la matita è burgundy entrambe della mac inutile dire che l'ho già usato di solito porto questi colori ma diciamo raramente perché non ero diciamo abituata a vedermici poi le persone hanno incominciato a farmi dei complimenti mi sono vista un po meglio allora ho deciso di portarli più spesso come secondo regalo che ho super super adorato c'è la spugnetta che appena lavato di primark di malefica che se la mettete dentro vedete che diventa appunto verde come malefica e il rossetto della maybelline della bella e la bestia sia il mio cartone preferito disney sto particolare con il traffio della bestia con il particolare in velluto è il numero 703 della amabili non avevo faccio vedere anche questo è un marrone molto molto bello quasi vinaccia diciamo e ancora però non l'ho provato perché non so con cosa abbinarlo forse non so molto bene con dove abbinarlo ma presto lo metterò un saluto speciale a martina che so che mi guarda sempre è stata l'autrice di questo regalo poi volevo dirvi che in questo video come promesso che purtroppo non ho fatto in tempo a filmarlo ci saranno anche tre acquisti che ho fatto al black friday è un autoregalo che mi sono fatta per natale allora però continuiamo con i regali allora poi un'altra mia amica insieme alla sorella gemella che si chiamano federica e carolina saluto anche loro se mi guarderanno mi hanno regalato una le yankee candle e queste che vedete qui le mini di anche candor allora voi non sapete quanto io rompevo le scatole mia mamma mio babbo per farmi comprare le yankee candle anche quelle piccole ma loro dicevano di no perché costavano troppo bla 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 allora mi sono state regalate queste tre che io una ho già acceso e sono tutte e tre di un di un odore di un sapore diverso che faccio fatica a decidere quale sia il più buono e poi un'altra mi ha regalato che io adoro questo porta scotch non so se vedete la forma di gattino che fa anche questo rumore non so cosa ci sia dentro però è utilissimo che io adoro di cose con i gattini quindi grazie fede grazie caro poi mia mamma è quella che si è sbiggiarrita di più con i regali devo dire anche se mi aspettavo una telecamera perché l'avevo chiesto una telecamera poter filmare meglio ma purtroppo pensi che ancora dovete accontentarvi del telefono almeno fino al compleanno allora mia mamma mi ha regalato questa crema corpo dell'erbolario che si chiama danza di fiori praticamente la signora quando andai nel boristeria mi innamorare di questa crema mi disse che è che era una crema fatta con tutte le altre creme best seller dell'erbolario quindi qui dice che ci sono le rose la viola la peonia la camelia l'iris il papavero e fiori di ciliegio che appunto danno questa crema qua io non vedo l'ora di usarla ve lo giuro ve lo stra giuro secondo regalo di mamma è buona da sephora non so ancora di quanto precisamente non l'ho ancora speso perché aspetto il buono di mio zio di milano che dovrei andare da lui settimana prossima quindi andrò da sephora milano che ci saranno più cose quindi credo di spenderlo lì poi ovviamente vi metterò sotto in un video non preoccupatevi e poi per il terzo regalo di mamma devo farvi vedere perché l'ho già messo in funzione questo piccolo organizer dove tengo spugnette matite per occhi matite per labbra rossetti di mac rossetti liquidi di clio e poi qui ho l'altro organizer qui ho l'altro organizer qui ho tutti fondotinta tonico struccante eccetera eccetera invece il mio auto regalo che mi è arrivato proprio oggi rossetto di anastasia beverly hills anzi c'era scritto che se prendevi il rossetto ricevevi un altro in omaggio ma forse non ho letto bene e forse dovevo raggiungere una certa cifra di spesa però ho preso lui che mi vedete già addosso nude ce l'ho su praticamente da stamattina non si è mosso nude sono andata sul sul classico perché non ho mai provato i rossetti di anastasia se non quelli mini e non sapevo se poi magari rimanevo deluso dal colore eccetera eccetera quindi sono volso andare sul classico ma ne comprerò sicuramente altri ora arrivati a questo punto direi di passare acquisti del black friday allora devo dire che ho trovato affari molti 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 affari allora partiamo dal rossetto viva glam di sia allora innanzitutto il pack è più lucido rispetto a quello normale e qui come vedete c'è il nome di sia ed è questo rosso molto simile a ruby who devo dire però questo dicono che sia dal sempre dal finish matte però molto meno di ruby who cioè ruby who è rosso super matte per per eccellenza e questo l'ho trovato sul sito dell'asos a 19 euro e 90 non era scontato però visto che era uno degli ultimi pezzi ho deciso di prenderlo perché nel sito della mac non si trova più da tanto tempo e quindi l'ho bramavo da tanto quindi ho deciso di prenderlo secondo che ho quasi finito appunto la mia give me brow no scusate precisely my brow pencil di benefit come vedete io la numero 2 ancora non l'ho aperta perché appunto finisco l'altra aspetto di finire l'altra e questa l'ho trovata invece che ha 29 euro e 90 da sephora l'ho pagata quasi 24 quindi se non mi sbaglio 23,90 e me l'ha regalata a mio babbo e l'affarone più grosso ragazzi questo il glow kit di Anastasia questo che io ho già usato ovviamente questo qua quindi ci sono 6 panna tutti molto grandi direi e questo l'ho trovato sul sito di beautybay invece che 44,90 euro l'ho pagato solo 26 ragazzi affarone affarone del secolo io sono contentissima e niente ragazzi questo era l'ultimo articolo fatemi sapere anche voi quello che avete ricevuto per Natale sotto nei commenti lasciate un like iscrivetevi se vi è piaciuto e non so fatemi sapere altre tipologie di video che vorreste vedere e niente a questo punto ci vediamo nel 2019